caspita eccezionale si mamma mia quanto oh la la mamma mia allora complimenti adesso da dove da qui posso andare questo qui è il primo che ho trovato in Svizzera ma chi ha raccolto tutto questo lei complimenti ho messo più di 40 e lavoro e passione io facevo restazioni di servizio è solo una passione incredibile è perché quando ho incominciato visto che tutti buttavano via tutto ma perché buttar via caspita incredibile quante cose che è qui la vita l'avevo a palazzolo milanese perché io sono nato e ho vissuto i 70 anni a palazzolo milanese qua era tutta la mia suocera l'immordia però l'aveva abbandonata e ne era per un lato tutto poi lì vi faccio vedere dieci anni fa nel frattempo io avevo venduto la vita e ho messo i piedi qua e ho portato il museo qua e io avevo vissuto il museo qua e avete solo un figlio? un figlio solo? un figlio solo che ha una robina di due anni e vive qua vive qua vive con la moglie a Ginera perché la moglie è una francese è dirigente alla sede di Ginera di Lisbon e allora abbiamo figlio siccome fa un lavoro con tutti e che lo può fare se non lo vuole si però l'ho piantato qua grazie grazie grazie